Direttore, sono arrivati. Bene, ti faccio entrare. Buongiorno. Matinta verde, D-E-R-D-E. Bene, mi parli di lei. Scusi, ma aspetta un attimo. Come scusi, puoi ripetere? Laura in legge, master in matematica e specializzazione in fisica. Dopo gli studi ho partecipato anche come giurista alla Corte Suprema di Washington. Può bastare così, mi ha convinto. E' assunto. Jessica! Puoi iniziare anche subito. Può bastare così, mi ha convinto.